buona visione andiamo ok ok no ok 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 sono qui forza dammi la mano non serve grazie ok vuoi che guidi io? no per me è lo stesso per me no questione di controllo certo godiamoci il viaggio in tranquillità ok? ho una domanda stupida cominciamo bene come sai che la zanna è anche rete? se qualcuno l'avesse trovata sarebbe finita in museo no? e non ricordo di aver visto mostri sugli oyster ma pensa che io non sapevo neanche chi fossero gli oyster sì beh è colpa del loro ultimo re era giovane avventato e schimpava le ricchezze dell'interno costruì una nuova capitale per ospitare la zanna ma questo attirò le attenzioni dei versati ehi un convegno di fericotteri ehi un convegno di fericotteri vedi una strada? sto cercando oh è rinfrescante grazie l'avresti potuto avvisare che musona sei allora è bello vivere all'aperto no? lontano dalla città è più caldo non direi aspetta via chi l'avrebbe detto rovine oyster proprio in mezzo alla strada le capitali antiche che cosa abbiamo? Alebidu e Belur pensavo fossero Ganesh e Shiva vedo che sei stata attenta Ganesh era il guardiano di Alebidu la più recente delle capitali Oisala Shiva il guardiano della capitale precedente Belur le incisioni sono magnifiche ma non sembrano mura fortificate il rione degli scultori da quel che vedo siamo ancora in periferia non pensavo fossi un'archeologa quello era mio padre veramente io sono solo una ladra ricordi? la nostra auto ha un verricello? sembra di sì ottimo allora ci penserà lui a queste porte vuoi buttarle giù con la forza? l'idea è quella se non hai la dinamite qui comandi tu lo prendo come un no ecco così dovrebbe andare Fraser via un'imposcata Martha al riparo grazie dell'avviso guarda la porta è attacco ok l'area è libera d'accordo dove eravamo? stavi per abbattere un antipobus sì giusto ed ecco fatto sei silenziosa? sono solo sorpresa mi aspettavo avessi più rispetto per la storia hai devastato un'antica rovina indiana nel nostro campo i sentimentalismi possono costare la terra c'è? sono solo enormi topi volanti lei in realtà no sì lo sono vai 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 finalmente finalmente fatta ferma Azaf ottima vista merda si è portato dietro un battaglione e altri potrebbero essere già dentro ehi sono lusingata che ci prenda tanto sul serio dobbiamo entrare in quella porta ok con calma prima pensiamo a questi scimmioni hai un piano? sì certo speriamo bene speriamo bene che che le due non saranno un problema mi da vedere ora mi pianterei che quel ragazzo ci sono preso per il gioco non si è aperto allora Grazie. Cettino, a terra! Vado! Merda, merda, merda! Rinforzi in attivo! Rinforzi in attivo! Allora, vai nei guai! Sì, è finito! Sì, metterla! Occhio! Là c'è una granata! Merda! La barata, ferma! A posto. Il mio piano ha funzionato. Io apro il cancello. Tu pensa alla macchina, ok? Certo. Grazie! A putti il sesamo! Ok, puoi entrare! Attento. Come sempre. Ok. Torna al tuo posto. Sono capace di guidare, sai? Certo, tesoro. Ma preferisco guidare io. Wow. È enorme da coprire. Vero, ma a differenza di Asav abbiamo un vantaggio. I tre simboli. Guardiamo la mappa. Ok, vediamo. Dovremmo essere qui. La aggiorno mentre procediamo. Commetto che si vede tutta l'area da lassù. Forse. Grazie. Grazie.